A 10 alle ore 21 a Torino si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della Federazione delle Associazioni Pugliesi in Piemonte, Casa Puglia-Piemonte, a cui ha partecipato anche l'Associazione Culturale Franco Provenzale di Puglia, in Piemonte rappresentata dal Presidente Silvano Tangi. Tra gli argomenti trattati dall'Assemblea Continentale per l'Elezione dei Membri Europei del Consiglio Generale Pugliesi nel Mondo e le proposte di programma 4 trimestre 2010. L'Associazione Culturale Franco Provenzale di Puglia in Piemonte fa parte delle 33 associazioni scritte e riconosciute all'albo delle associazioni a Bari, con diritto di voto insieme a Cerignola, Corato e Torremaggiore. Tante le iniziative in programma, prevista anche la partecipazione della Regione Puglia al Salone del Gusto 2011, manifestazione internazionale che si tiene nel centro piemontese. Sabato 23 ottobre l'assessore al Welfare Elena Gentile, ovviamente della Regione Puglia, su delega del Presidente Niki Vendola, è stata a Torino dove si è tenuta l'Assemblea Continentale Europea di tutti i presidenti delle associazioni e federazioni dei pugliesi nel mondo, regolarmente iscritte all'albo regionale aventi sede in Europa per la designazione dei nuovi componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo. Quella di Torino è la prima delle cinque assemblee continentali previste dalla legge regionale numero 23 del 2000, interventi in favore dei pugliesi nel mondo. Questo importante appuntamento istituzionale si tiene a Torino in occasione anche del 150esimo anniversario della creazione dello Stato Unitario Italiano, di cui la città è stata prima capitale.